Sì Giovanni, buongiorno. Siamo all'esterno dell'Aula A del Tribunale di Frosinone dove è appena conclusa l'ultima udienza per l'omicidio di Romina De Cesare, la 36enne di Cerro a Volturno uccisa a coltellate da Pietro Jalongo e il suo ex fidanzato la notte tra il 2 e il 3 maggio del 2022. Ultime battute di questo processo si arriverà a breve a sentenza. Durante le conclusioni il PM Misti ha chiesto per Jalongo una condanna a 23 anni di reclusione riconoscendo le aggravanti degli atti persecutori e della coabitazione ma anche le attenuanti generiche. In aula per la parte civile ci sono anche il papà di Romina, Mario, il fratello e anche lo zio illegale della famiglia. L'avvocato Leva ha chiesto una pena adeguata perché Romina è vittima di una relazione di potere che è tipica alla base dei femminicidi. Rimettendosi dunque alla decisione della Corte l'avvocato ha anche chiesto che venga riconosciuta quella che è stata la crudeltà negli atti e soprattutto gli atti persecutori portati avanti per molto tempo da parte di Jalongo. Jalongo era presente in aula e c'erano anche i suoi genitori negli ultimi banchi. Seguiranno ovviamente degli aggiornamenti nelle prossime edizioni del Tg. Per ora è tutto, la linea a voi studio.